Cari amici di Ecoitaliano, sono nello spazio di Sara Cocozza. Sara Cocozza si occupa di Sartoria, made in Italy, e vogliamo un pochino sapere, appunto, Sara, ti ringraziamo prima di tutto per averci ospitato qui e vogliamo sapere un pochino di cosa ti occupi. Insomma, tutte queste creazioni sono tue. Da cosa nasce l'idea Papillover e che cos'è? Allora, Papillover è il brand mio e di mia sorella Manuela e abbiamo deciso di, appunto, creare un marchio nostro perché abbiamo cercato di unire le nostre competenze, la mia nel design e la sua nel marketing. e nasce perché entrambe siamo appassionate di fiocchi da quando eravamo bambine e il marito di mia sorella, quindi mio cognato, è appassionato di Papillon. Quindi abbiamo deciso di sviluppare inizialmente il Papillon e poi tutti gli accessori coordinati come per esempio le cravate oppure le pochette da taschino come questa. Successivamente ci siamo, diciamo, dedicate anche alla donna, quindi abbiamo sviluppato quello che è il Papillon da donna e dopo l'abbiamo declinato in fiocco gioiello o comunque fascia gioiello come appunto questi che sono una spilla o una collana e appunto la fascia che va sulla testa. Tu eri appassionata di sartoria sin da piccola? Sì, io infatti ho studiato moda e successivamente ho deciso di, diciamo, non solo applicare quello che è il design, quindi proprio il disegno del prodotto, ma di partire dalla ricerca di materiali fino alla realizzazione del prodotto finito. E diciamo, se qualcuno volesse comprare i prodotti Papillover, dove può? Allora, noi abbiamo un e-commerce www.papillover.com su cui ci sono appunto tutti i nostri prodotti e siamo anche il Rinascente a Via del Tritone, la nuova Rinascente che ha aperto a Roma, ma solo con prodotti maschili ed esclusivamente con la collezione di questo inverno. E, basta, sostanzialmente poi abbiamo a Napoli uno showroom dove è possibile visionare i prodotti che è in Via Scarlatti, 201. A cosa ti ispiri per le tue creazioni, di solito? Beh, ogni collezione nasce da qualche idea, per esempio quella dei colori pastello è dedicata, diciamo, più al mare, alla terra, eccetera. Noi poi usiamo molto il denim, che è di un'azienda che ha vinto il Global Denim Award, anzi è arrivata a seconda per la precisione, che si chiama Berto Industria Tessile, è un'azienda di Padova, diciamo, di vicino Padova, che appunto sviluppa tutto il prodotto in Italia. Quindi noi siamo molto legati al Made in Italy, tutte le nostre materie prime sono italiane, e, appunto, quindi è tutto un processo sviluppato in Italia e, diciamo, quello di produzione e di creazione a Napoli nello specifico. Sara, è possibile realizzare qualcosa di personalizzato, firmato Papillover? Sì, certo. Noi lavoriamo molto con i papillon e con il ricamo, come per esempio in questo caso. Si può sviluppare, ad esempio, un ricamo con delle iniziali o con qualche logo o con, appunto, un disegno ideato da qualcuno. E, appunto, noi sviluppiamo il ricamo e in altri casi possiamo sviluppare addirittura il pattern sulla stoffa e tendenzialmente utilizziamo la seta per questo genere di lavoro. Sì, come personalizzazione è questo e sul sito c'è una sezione proprio dedicata al personalizza, quindi, appunto, ci viene mandata l'idea e noi, diciamo, restituiamo il prodotto. Qual è l'offerta di Papillover per il periodo natalizio, visto che siamo, appunto, a pochi giorni da Natale? Allora, per il periodo natalizio ci sono delle collezioni dedicate, come questa in velluto e il tartan. E poi c'è un pattern che è stato sviluppato da me, che è, appunto, quello con i Babbo Natale, le reine, eccetera. E questi sono sempre acquistabili sul sito? Sì, 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 sì. E anche questa tipologia, diciamo, di idea regalo, che sono praticamente delle palline natalizze all'interno del quale ci sono dei mini Papillon, che sono praticamente delle spille che si possono mettere come la mia o all'occhiello della giacca. Quindi ci sono tante idee per i regali di Natale firmati Papillover. Papillover. Sara, io ti ringrazio tantissimo per aver ospitato me ed Eco Italiano nella tua realtà dei Papillon, quindi Papillover. Per tutti gli amanti di Papillover, vi invitiamo, appunto, a visitare il sito e ad acquistare questi meravigliosi prodotti che sono all'insegna del Made in Italy. Perfetto, grazie a voi. Ciao, Sara. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.